Guardate quest'altra dolcezza, un volpino non più giovanissimo, lui è Ughino. Ughino, dimenticato da tutti qui in Canile, un invisibile perché è nero e perché si pensava che non l'avrebbero mai scelto. Ma qualcuno ce l'ha indicato, ci ha detto andate a vedere quei cagnolini nel box numero 37 del Canile di La Terza che è veramente un delitto lasciarli senza una possibilità. Questo è un piccolino, pesa 10 chili, ma è possibile, è possibile che nessuno possa volere un piccolo così, così affettuoso, coccolone, felice di avere il contatto umano e invece si deve accontentare di 5 minuti al giorno per le coccole. E poi la monotonia del box dalla mattina alla sera. Vuole saltare, vuole saltare, cosa deve saltare qua dentro, che c'è da saltare? Qua veramente c'è solo da andare in depressione e da impazzire. L'unico suo conforto, i fratelli, la sorellina Alma e il fratello simile a lui ma più grande, Scream. Dolcissimi anche loro, un po' più grandi. Lui è il piccoletto della famiglia, quindi li hanno abbandonati probabilmente cuccioli. Loro sono qui dalla precedente gestione. E sì, per questo che non possiamo dirvi nulla di loro. Saranno stati soliti cuccioli presi e buttati perché non servivano. E nemmeno da piccoli sono stati proposti. Che tristezza. Però nello stesso tempo la speranza c'è. Perché sicuramente qualcuno che vuole un cagnetto piccolo e affettuoso ci sarà. E qualcuno che non vuole per forza il cucciolo. Le carte dicono che lui è nato nel 2012. Però sia di lui che dei fratelli, non lo so, noi diremmo invece che hanno sugli otto anni. Perché insomma dai denti, dal faccino imbiancato. A volte si sbaglia chi decide la data di nascita. Così, magari in base agli elementi che vede in quel momento spara una possibile data. E può anche sbagliare. Poi si vede con il passare degli anni. Però le carte dicono che lui ha sei anni, che è nato nel 2012. Lui è naturalmente i fratelli. Gliela diamo una possibilità a questo piccolo. Allora, lo stiamo facendo ora. Solo oggi, dopodiché dovremmo andare via. C'è un cambio gestione e non sappiamo come va. Noi ci auguriamo di poter comunque continuare con le adozioni qui. Ma nel dubbio, nel dubbio ci diamo da fare adesso il più possibile, fino all'ultimo. E un cagnolino così sarà pure l'ultimo cane che lascerà il canile, ma deve lasciarlo a tutti i costi. Fate un pensierino per lui. Piccino, che c'è? Che c'è piccolo? Che c'è? Guardate che amore. Adottatelo. Buona fortuna, piccolino. Ti auguro una vita, un futuro pieno di coccole. Non importa se sarà l'ultima parte della tua vita, ma almeno non morirai in solitudine. Ciao piccolo. Ciao guino. Ciao guino.